Il titolo spiega il senso di un'avventura condotta per vent'anni di lavoro nella Biblioteca Ariostea, nell'archivio storico del Comune di Ferrara, durante il quale periodo ho avuto modo di incrociare i grandi numi della poesia, della letteratura, dell'arte di Ferrara, primi tra tutti Ariosto e Tasso, e la musica, che è un elemento che attraversa questa città, la permea, l'avvolge anche del suo silenzio e quindi la rende caratteristica. Ingrociando questi due elementi ho composto sette noterelle, una per tutti i giorni della settimana. Quindi dal lunedì alla domenica il lettore può, prendendo questo libro che adesso mostro, e leggerlo come se fosse un diario settimanale, un accompagnamento anche per alleggerire lo stato di tensione che portiamo con noi dopo questo lungo periodo di quarantena, di tristezza. Ecco, questo è un po' un viaggio nella città dell'arte e della musica per liberarsi del peso e del cattivo ricordo, che ormai deve essere per l'appunto un brutto ricordo, e guardare con fiducia e sicurezza al nostro futuro. Grazie a tutti.